Noi abbiamo presentato insieme con la soprintendenza di Chieti un progetto rivolto alla scoperta e al censimento, alla catalogazione e alla valorizzazione di un corpus di documenti e di fotografie assolutamente inedite di un cittadino mocenese, un giovane soldato classe 1891, Serafino de Benedictis, che ha rivestito un ruolo particolare, viene ruolato nel 1913 con un mestiere già acquisito, che è quello di tipografo, era anche un fotografo dilettante, ha avuto la fortuna di trovarsi non in trincea ma comunque in prima linea in zona di guerra per il comando supremo, quindi Roma e poi Udine e poi il Carso è di vivere dal 15 al 18, l'anno della sua morte, muore giovanissimo in modo precoce, a 27 anni, poter vivere direttamente i personaggi, gli avvenimenti, le evoluzioni della guerra e quindi il materiale che lui ha prodotto e che poi è tornato alla famiglia, che oggi ne è proprietaria, quindi gli eredi dei Benedictis, questo materiale costituisce una testimonianza eccezionale, inedita, in gran parte sfuggita, tra l'altro le maglie della censura, che oggi vorremmo valorizzare con questo progetto, che fortunatamente è stato accolto dal Ministero, finanziato e che ci auguriamo possa avere un importantissimo valore formativo e culturale. Un progetto che si inserisce nel solco di una serie di iniziative che da alcuni anni, in vista del centenario della Grande Guerra, dal 15 al 18, il Ministero ha voluto foraggiare, quindi sponsorizzare. Mi permetto di segnalare l'importanza dell'avvenuto finanziamento di questo progetto perché tenete conto che su un budget nazionale di 70.000 euro, una quota di oltre 10.000 euro è stata deputata proprio al progetto presentato tra l'amministrazione di Mosciano Sant'Angelo e la soprintendenza archeologia e belle arti e paesaggio dell'Abruzzo.